Siamo a seguire a questa settimana, per i sette giorni, iniziamo tutto con la settimana di questa settimana, che si è venuta a presentare, che andrà al consigliere di questa settimana, e allora abito sempre a me, ecco l'altro in Italia, nazionale, finisce, dicendia, che manda abito in via, e fin alex notizia, passano tutti i passi, questa è la prima testa, e la prima finale, quattro a settimana. Allora, vediamo qui, Allora, inizierei, il dico pubblico, di andare a prendere posizioni, allora inizierei, il dico pubblico, di prendere posizioni, sul gruppo, delle gattie, allora, allora, e ci seri, il dico pubblico, inizierei, sulle tribune, e tanto vorremmo e adesso andiamo a presentare il tricolo della nostra fede con le foto con il signor di tutti in a vera nel palco e a tutti con il signor di bianco il la prima settimana mentre ramos la nostra questa la portata della stagione del mio erosco attrae la monta 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 con le 20 anni ma è un piccolo di stagione a 20 anni in una data di stagione nel 2007 attrae la monta attrae la monta di stagione attrae e quest'anno la prima di oggi andiamo a scegliere questa finale di supporto settivo quattro e venti ancora qualità per la sinistra verna e la parola di mestre ruba vediamo la nostra scelta ancora la sua qualità go della sinistra verna che la costa della parte e la parola di mestre e la parola di ma arriva al palo di 30 minuti ed è la parte della parte della parte della parte della parte della parte della parte Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.